Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2, io sono Glacial Sfera ed oggi giocheremo Simmetra, un campione che recentemente non ho visto molto utilizzare in Overwatch 2, l'ho visto davvero pochissime volte, scusatemi, il singhiozzo, pochissime volte e è strano, stranissimo, perché in Overwatch 1 erano dei campioni più forti, mettevi le torrette e one shottavi tutti. Ora andiamo a leggere le sue abilità come facciamo sempre in ogni video di questo tipo, quindi, proiettore fotonico, raggia corta agitata, eccoci qui, con danni incrementali, poi, teni premuto il tasto destro per caricare e lasciarle e denunciare un grobo esplosivo, ok, Q, barriera fotonica, attiva una potente barriera energetica, maiuscolo, schiera una piccola torretta che danneggia la lenta nemice e crea due televarchi temporanei attraverso i quali viaggiare istantaneamente, ok. Allora, creiamo tipo un televarco qui, e un altro lo metto da un'altra parte, ah, li ho messi male, ok, perfetto. Avete capito che io non sono molto bravo ad usare il simmetra? Ok. Posso usare questa roba qui ora per danneggiare un po' loro. Ah, non lo potete ne ho premuto troppo, però. Buono. Oh, raga, ma quanto danno fa sta roba? Cosa? Cosa? Quanto danno fa questa cosa? Ma sei rotta! Ma sei rotta di nuovo! Perché continua ad essere rotta anche in Overwatch 2, champion skillato, champion per gente non skillata. Eh sì, venite pure avanti, va? No, dove l'ho tirata? Eh, vedete, ragazzi, che non sono troppo bravo a giocare simmetra, eh? Oh, raga, gioco a fare danno contro i danni e vinco. Oh, raga, gioco a fare danno contro i danni e vinco. Guarda qua. Oh, ragazzi, ma vi sembra normale un campione del genere? Ma vi sembra normale? Io a me no. A me un campione del genere sembra sbilanciatissimo. Guardalo! Oh, ragazzi, sto facendo dei danni che non hanno alcun senso. Poi tanto, appena arriveranno, si beccheranno la mia sentinella. Ok, ora magari questa la mettiamola meglio, eh? Ecco. Ah, sono state distrutte, le mie torrette. dobbiamo buttarne una tipo là dietro, no? Ok, questo fa male. Niente, mi hanno distrutto. Peccato, peccato. Stavo andando comunque bene, ragazzi, ma... Che danni fa simmetra? All'altro è vero, è un champion da danno, quindi è anche giusto che faccia danni, per carità. Non so perché avessi in mente che fosse un campione da supporto. Forse perché prima era un campione da supporto. vi parlo dell'inizio di Overwatch, potrebbe essere. Buon water ganja. No, 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 no. Oddio, che ne hanno fatto? Oddio. Oddio. Ma che danni fa sto coso? Oddio. Ma ragazzi, ma tutto bene? Guarda lontano, fai questo. Guarda te. Boh. Guarda, mettiamo qui con le torrette lì. Eh, mo' bisogna allontanarsi un secondo, eh. Ragazzi, stanno fatendo tutte le mie torrette, c'è assurdo. Boh, ragazzi, ma vi sembra una cosa normale questo campione? Boh. Boh. Oh. Guarda, vinco pure contro Genji, ma che senso ha? Ma vi sembrano ormai? Boh Li sto uccidendo nel loro spawn, ragazzi Cioè, questa cosa non può funzionare così Cioè, non può essere una cosa giusta questa Boh, ragazzi Ma io simmetra non me l'aspettavo così, ma mai nella vita Ma cos'è? Ma cos'è? L'azione migliore della partita? No, l'ho fatta io Questo non è vero Becku Non è vero Becku Ok, forse sì Forse l'hai fatta tu Va bene Boh, ma guardate la glacia spear che ammazza la gente Che ammazza Genji Boh, cioè Quello che non mi uccide È quello che non mi uccide È la faccia di quello che non mi uccide Vabbè, ragazzi Andiamo subito a fare un'altra partita con Simmetra Io non me l'aspettavo così forte Partita trovata Siamo nel Colosseo E a questo punto possiamo anche cambiare skin di Simmetra E andare con Devi Beh, molto simile a Dea Non cambia praticamente nulla Oasi invece Ecco, Oasi cambia Dai, mettiamoci Oasi allora E ci terremo l'aspetto di Overwatch 2 Per l'ultima partita Io, ragazzi, non so come sia possibile Che un campione possa essere così forte Non nemmeno ho fatto caso a quanti danni ho fatto Nello scorso Nello scorso partita Non so se ci sia un modo di andare a rivedere le statistiche Però non c'è proprio fatto caso Avrei voluto vedere quanti danni sono riuscito a fare Ok Beh, Simmetra effettivamente nelle modalità in cui bisogna mantenere il controllo di qualcosa È fortissima In questa vediamo invece come se la cava In questa del robot Vediamo, eh 5 4 3 2 1 Dai, eh Tra l'altro Avete tenuto presente una parola molto importante I danni del suo raggio sono incrementali Cosa vuol dire incrementali? Magari c'è qualcuno nel video che sto ascoltando il video, no? Lo sa Vuol dire che fanno sempre più danno nel tempo Cioè voi più continuate a colpire qualcuno con questo raggio E più danno farà In continuazione Ah, io direi di mettere Queste sul robot Ah, non stanno sul robot Ok Mi sa che lei ha il raggio più forte Mi sa che io l'ho potenziato un casino Dandogli tutta questa energia Mi sa di sì Ok, io comunque ho deciso di uccidere qualcuno a caso Buttando le mie torrette E ho fatto qualche donettino Va bene Allora, mettiamo questo qui L'ho posizionato? Niente, non riesco a capire come si posizionano queste cacchio e robe Vabbè Ok, iniziamo a buttare un po' di bombe Tiriamo le bombe che ci hanno portato molto bene Nella scorsa partita Oddio Puoi gentilmente morire, grazie Anche tu Strepa Mostra Grazie Una prestazione eccezionale 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 sì Guarda un po' qua Ma un po' di cure no, eh Grazie Curami Guarda che colpi in faccia che si è beccato quella là Dai, non ricaricare, mostra Fortissima Fortissima simmetra Guardala là Abbiamo quasi ottenuto il vantaggio Buono Ma tu ho pagato un corno Guarda che danni che ti faccio adesso Guarda ti disintegro Dove sono andate tutte? Ah, ok, stavo laggando Sembrava strano Buono, buono assist A tutto spiano Ah, peccato Mi hanno ucciso Come torretta riesce a sparare magari, no? Sì, perché gli passarono vicino ai campioni Un pari di sparetti, no? Niente Abbiamo portato comunque il coso Riesco ad attivare sto coso, no? Io adesso devo capire come si fa Vai Questo qui Ma lo attiva qui Ma com'è possibile? Ma non si capisce come si deve fare Forse Forse devo tipo Boh Non lo so Metterlo Grandi Ho ucciso qualcuno Con la torretta Va bene Abbiamo ottenuto il robot Facciamo muovere questa barricata Ah, mettiamo una torretta di sopra OP ragazzi OP Buono Buonissimo anzi Altro che buono Allora Dato che qui arriveranno a rompere le balle Mettiamo subito le torrette Ammiglio le torrette La tua mente resterà chiusa in più Sposto la barrica Ho finito nella ponte Sposto la mia figlia Piazzo la torretta No Ora sì Niente Ci ho provato Ci ho provato Vediamo i danni che sto facendo Niente male Top damage Della partita Praticamente E in più E in più ho anche mitigato dei danni Non so come sia possibile Mitigare dei danni con simmetra Ah con lo scudo Con la ulti giustamente Mi era venuto in mente Allora Venezia riesco a mettere Sto cacchio di roba Niente no Impossibile Non ho capito come sia attivi Quella cosa Boh Ma a quanto pare È letteralmente impossibile Dai Moira di merda Eh la sua falla Boh Va bene Certo che A campioni stupidi Simmetra e Moira Effettivamente Si contendono la palma d'oro Per il campione più stupido Di Overwatch Cioè questo qui Metti giù le torrette Stai da lontano Tirisca roba qua Fai tanti danni atroci I privatori sono abbastanza grossi Per colpire un botto di gente Cioè non è che sono tipo I colpi Da cecchino Crepa Brava Ragazzo Muore Buono No dai Che merda Ho appena messo la ultimate Io non mi aspettavo più Che arrivasse la bomba Ci ha messo tre anni Guarda dove è andato Te Che infame Però Abbiamo comunque No L'abbiamo ucciso nessuno Peccato Peccato Vabbè che tanto Ricaricare i danni Non ci metto molto Però Troppo forte Questa cosa Troppo forte Senza alcun motivo Allineamento del sistema Difensivo Over there Dove Dove Buono Dove va questa tipa Pazzita Vai 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 Andiamo Andiamo Boh Io questo Non capirò mai Come si mette Ah Ho capito Ok Capito Capito Era davvero così semplice Mi chiederete Sì Era davvero così semplice Dai Mi hanno ammazzato Moira Ma Moira Con quella ultimate Porco cane Che poi stava mirando altri Ha ammazzato me Va bene Posso meditare Sulla mia osservazione Comunque Top damage Del team Rimango Anzi no 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 Moira Ha fatto 8000 danni Moira Cioè Ora capite perché È un champion sbroccato È un eroe sbroccato Moira Dai raga Ammazzatevi Buono Vinto GG 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 Vai Ulta Buttala giù Questa ultimate Niente male Davvero Probabilmente La sua migliore Sarà Junkrat Eh infatti Con quella bomba Laca Ha ucciso tre persone Sicuro Eh questa qui appunto Che si è fatta Tutta la mappa Boh va bene Si è fatto tutta la mappa E via Ha ucciso anche i droni sentinella Ecco forse perché ha dato La play of the game Ha contato più Nemici uccisi Bene E dopo questa partita Andremo a fare L'ultima partita Di questo video Con Simmetra O simmetra Che dite se voglia Eccoci qui Pronti per giocare Simmetra Di nuovo A questo punto Andremo però Con la skin Di Overwatch 2 Eccola qui Con la base E vediamo come Ce la caveremo In quest'altra partita Siamo vicini Al video perfetto Di nuovo Vi ricordo che abbiamo Vinto due partite Su due Quindi vediamo Se vinciamo anche La terza Questa qui Che evidentemente Sarà la più difficile Riusciremo a vincere A fare il video Perfetto Anche con simmetra Ecco qualcuno Ha già abbandonato La partita Virus ha abbandonato La partita E Crufti Si unisce Alla partita Sembra un grugnito Il suo nome Crufti Va bene E allora Vediamo un po' Cosa Cosa riusciremo a fare E più velocemente Allora simmetra Certo No Beh è proprio forte Cioè non c'è un certo Non c'è un È situazionale Non è proprio forte Da lontano A questo Da vicino A questo Ha le torrette Per la strategia Ha il Posso mettere le torrette Sul payload Non credo Ha La E Cioè Meglio di così Ehm Come scusa Andivo la barriera La barriera Si franzuma Via libera Carico in movimento Cioè inizia una torretta Fatta Me l'hanno distrutta tutte Mentre si sfondo le torrette Ma che stronzi Basta raga Mi sono rotto le balle Via Morti tutti Morti Tutti E si è bella La tua torretta Torbjorn Molto interessante Che che fa più danno Se si Sovraccaricati pure Va Stifoso Però questi qua Distruggono subito Le torrette E distruggono subito Famelle Grazie 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 La barriera ha ceduto. La barriera è stata distrutta. L'universo è stato distrutto. 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 No, peccato. Sono entrato proprio dritto, dritto nella ultimate di Sigma perché volevo continuare a fare danno. Raga, 3000 danni eh. Io e Torbjorn, quelli che hanno l'hambot. La butto lì. Non è che questa cosa di far avere torrette ai campioni è un po' sbroccata eh. Overwatch è quello che diceva anche durante quello che diceva anche mentre giocavo ad Overwatch 1. Cioè campioni come simmetra Torbjorn non vanno bene, hanno l'hambot. Cioè non va bene far giocare la gente con l'hambot. Che senso ha ragazzi? Hanno già distrutto tutte le mie torrette eh? Sì. Eh sì, neutralizzami tutto va. Eh sì, neutralizzami tutto va. Buono. Allora dov'è che potrei mettere le torrette per dare fastidio? Lì! Lì! Per lì! Li buoni, sul di tutti. No, no! No, no! No, no! No, no! No, no, no! 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 No, no! No tutti. Oh raga sono concentratissimo Morite tutti basta Avete fatto le palle Oh Basta morti tutti Ma raga ma simmetra ma tutto bene Tutto bene team di overwatch Dal bilanciamento ma vi rendete conto Del campione che avete portato Per fortuna non sto usando molti Cioè per fortuna non stanno usando in molti ma ragazzi Ma simmetra E giustamente si finisce con la play of the game Video perfetto Play of the game alla fine raga meglio di così Ed è appunto l'ultima L'ultima mi sono combinato con la ultimate Di Kiriko che mi ha ricaricato se non sbaglio Tipo subito le torrette che ho messo E poi questo è il danno incrementale Più danno fai più danno fai Con laser cioè più danno fai Più aumenta il danno Qualcosa di assurdo Quindi io vi ringrazio per aver giocato Per anzi per aver guardato questo video Di overwatch 2 su simmetra Vi ricordo di lasciare un bel mi piace Se il video vi è piaciuto Di commentare Facendomi sapere cosa ne pensate Sia di simmetra che di overwatch 2 Che se avete insomma consigli Per giocarla meglio Insomma simmetra E iscrivetevi al canale Per non perdervi i prossimi caricamenti Da Glacial Sphere È tutto Al prossimo video Grazie a tutti